Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver mai subito un leak Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anzi mi sbilancio, la più ricca di sempre Ieri è successo veramente di tutto e oggi non c'è tempo da perdere Quindi se siete nuovi iscrivetevi subito al canale, l'obiettivo è quello di raggiungere il milione di iscritti tra 7-8 giorni E se non ci riusciamo sarà solo colpa tua È una bella responsabilità Bene, detto questo possiamo metterci in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso Io ho detto tutto, iniziamo! Caschi il mondo? Comunque si parte sempre dall'angolo della poracciata L'Epic Game Store questa settimana offre gratuitamente Payday 2 Un titolo che sarò sincero mi attira meno di zero Quello che trovo molto interessante però è ciò che verrà dopo Dalla prossima settimana sarà infatti possibile riscattare i due Guacamili Due acchiappi da fare al volo se siete amanti dei Metroidvania In tutto questo casino di news vi ricordo comunque che sono partiti i saldi estivi su Nintendo eShop E quanto prima possibile farò un bel video dove spulceremo insieme le pagine di Deku Deals in cerca delle migliori offerte Intanto, visto che ci siete, iniziate a dare un'occhiata a questa promozione e segnalate nei commenti le cose che vi sembrano più interessanti Abbiamo delle novità riguardanti il Capcom Showcase che si terrà lunedì notte La descrizione dell'evento è stata aggiornata e ora sappiamo che durante la presentazione si parlerà di Ghost Trick, Exo Primal e Dragon's Dogma 2 Ci sarà spazio anche per molto altro La presentazione durerà circa 36 minuti e magari chissà ci sarà veramente spazio anche per un big reveal Fossi in voi non volerei però troppo in alto con le aspettative Invece possiamo essere sempre più curiosi per il primo direct di sempre di Grasshopper Lo studio di Suda51 che festeggerà il suo venticinquesimo anno di attività Ieri durante la Summer Game Fest è stata annunciata la remaster di Shadows of the Damned Un action in terza persona che si ricordano in pochi nonostante alla sua lavorazione abbia partecipato anche Shinji Mikami Ma questo è solo un assaggio di quello che vedremo durante lo showcase Quindi ripetiamolo tutti in coro Dateci Killer7 e nessuno si farà male Ah sapete chi altro ha lavorato su Shadows of the Damned? Il compositore Akira Yamaoka Autore tra le tante cose della colonna sonora del primo Silent Hill E beccatevi questa transizione è proprio di Silent Hill che dobbiamo parlare Visto che Annapurna Interactive ha annunciato un suo showcase per il prossimo 29 giugno alle 21 Che viene pubblicizzato come il loro evento più grande di sempre E molto probabilmente sarà il turno di svelare qualcosa di più sul misterioso Silent Hill Townfall Sviluppato dallo studio scozzese No Code Studio Insomma un altro appuntamento da tenere d'occhio in queste settimane di non e tre Però a questo punto è chiaro che l'evento principale di questa estate sarà l'Xbox Showcase Che si terrà domenica 11 giugno alle 19 E che noi seguiremo insieme qui in live su YouTube a partire dalle 18.30 Di questo appuntamento parleremo in modo approfondito nelle notizie principali Però intanto vi butto lì questo rumor In questi giorni la newsletter di Xbox Germania promuove il Game Pass mettendo in copertina tre titoli Woolong, già disponibile Exo Primal, che arriverà al day one il mese prossimo E Silksong, la cui ultima apparizione risale proprio allo showcase di Xbox dello scorso anno Che sia giunta il momento di scoprire la data di questo attesissimo sequel Io per non sapere né leggere né scrivere guarderò con parecchio entusiasmo la presentazione di Microsoft Vi raccomando non mancate Ah e prima di passare alle news del giorno parliamo un attimo di una cosa che in realtà mette fine a un rumor Che stavamo seguendo da parecchio tempo Vi ricorderete che Grezzo, lo studio che si è occupato del remake di Link's Awakening Era alle prese con una misteriosa produzione di stampo medievale Almeno così recitavano degli annunci di lavoro dove lo studio diceva di essere in cerca di programmatori da reclutare Tutti speravano e molti erano convinti che si trattasse di un'altra riproposizione zeldosa Invece la realtà è molto più amara, si tratta di Jet Dragon, un'esclusiva Apple Arcade A quanto pare sarà un mix tra un pet simulator e uno racing game, tutto ovviamente a tema draghi Insomma mi sa che gli oracles ce li giochiamo su NSO in versione originale Ma bene passiamo alle notizie del giorno, perché la vera bomba di ieri sera in realtà è stata esterna alla Summer Game Fest Infatti a causa di un clamoroso autoleak da parte di Atlus sono stati svelati due titoli non ancora annunciati della serie Persona Si tratta di Persona 3 Remake chiamato Reload e di uno spin off di Persona 5 chiamato Tactica E questo scivolone a sua volta apre a un altro casino di speculazioni e rumor Ma andiamo con ordine Diciamocelo chiaramente, dai, il remake di Persona 3 era nell'aria ed era diventato un po' il segreto di Vulcinella Sono mesi ormai che andiamo avanti a indiscrezioni, rumor, movimenti sospetti di Atlus che aggiorna i domini dei siti web E poi non dimentichiamoci anche quel leak con dei video di gameplay di tre progetti Sonic Frontiers, il remake di Persona 3 e anche il ritorno di Jet Set Radio Ora però la conferma ufficiale arriva direttamente da Atlus, anche se per errore L'account Instagram di Atlus West, la divisione occidentale dell'azienda, ha pubblicato come se niente fosse ieri sera Le schede prodotto di questi due giochi non ancora annunciati, accompagnati poi dai trailer di presentazione Si è trattato di un errore madornale, tanto che i contenuti sono stati rimossi in tempo record Ma ormai il danno era stato fatto e vi potete immaginare come sia stata solo una questione di minuti Prima che i trailer venissero ricaricati più o meno ovunque Atlus sta provando a buttare giù tutti questi re-upload, ma ormai è troppo tardi Quindi sappiamo che il remake di Persona 3 uscirà inizio 2024 Anche se al momento non è ancora chiaro quale base sarà utilizzata nella costruzione di questo rifacimento Ma si tratta comunque di una re-immaginazione a tutti gli effetti e fatta con cura Che sembra prendere almeno esteticamente tanto dallo stile grafico, delle interfacce principalmente, di Persona 5 Mentre lo spin-off di Persona 5, Persona 5 Tactica OT, visto che stiamo seguendo l'ordine alfabetico Sarà un classico RPG a scacchiera in stile super deformed Che devo essere sincero non mi ha detto molto Questo uscirà invece il 17 novembre La cosa però che deve catturare la vostra attenzione è il logo finale del Game Pass Dopo il reveal del ritorno di Persona 3, 4 e 5 avvenuto lo scorso anno durante l'Xbox Showcase Anche in questo caso il nome di Microsoft è legato a un annuncio a dir poco epocale Di nicchia ma epocale Non si tratterà di un'esclusiva Xbox, è chiaro Ma l'inclusione di questi due titoli all'interno del pass è tanta tanta roba Ed è chiaro come questi trailer sarebbero dovuti essere associati allo showcase di domenica prossima Dove probabilmente avrebbero ricoperto un ruolo centrale Poro a Microsoft che gli hanno rovinato una delle sorprese più grandi Ma soprattutto poro il social media manager di Atlus Che a livello lavorativo oggi mi sa che non se la starà passando benissimo Ma se questo è il tenore degli annunci che Phil Spencer e soci hanno preparato per gli utenti Xbox Lo showcase rimarrà comunque un appuntamento imperdibile Ma questo reveal, come accennavamo in apertura, crea un vero e proprio tsunami di rumor Innanzitutto conferma in modo ancora più deciso l'esistenza, o almeno la volontà Di fare un remake di Jet Set Radio Che già questo mi rende felicissimo Ma inoltre dobbiamo andare a riprendere un leaker che negli scorsi giorni si era sbilanciato parecchio Su Reset Era infatti, I Am A Hero 2 sono giorni che andava raccontando dell'esistenza di questo remake Che si sarebbe chiamato Reloaded E che sarebbe stato presentato durante l'Xbox Showcase Ma non si è affermato qui perché l'insider ha aggiunto tanti altri dettagli Ad esempio afferma che oltre a Persona 6 ci sarebbe un altro titolo di persona non ancora annunciato pronto per essere svelato E uscendo dai ranghi di Atlus, il leaker ha anticipato correttamente anche Square Enix Affermando che Final Fantasy VII Rebirth fosse previsto per gennaio 2024 Un'altra conferma arrivata in chiusura della Summer Game Fest E cos'altro ci dice l'insider su Final Fantasy? Beh che il tanto rumoreggiato remake di Final Fantasy Tactics sarebbe pronto per essere presentato Parla anche di un remake di Final Fantasy X previsto per il 2026 in occasione del 25esimo anniversario del titolo E poi aggiunge tanti dettagli sul gameplay e sulla storia del Rebirth Che però non tratterò visto che da molti potrebbero essere considerati spoiler Vi lascio il link in descrizione e poi decidete voi se leggerli o meno Comunque i prossimi mesi saranno molto interessanti per gli amanti dei JRPG Sempre che tutti questi rumor messi in circolo si rivelino corretti Però per ora ci hanno preso alla grandissima Poracci voi cosa ne pensate del futuro della serie di Persona e di Final Fantasy? Ma basta parlare di indiscrezioni almeno per ora e commentiamo un attimo l'evento di ieri sera La Summer Game Fest di Jeff Keighley si è rivelata una presentazione dal buon ritmo Con tanti annunci è qualche bella sorpresa Con oltre 40 titoli mostrati è praticamente impossibile fare un riassunto complessivo della serata Quindi io vi dirò giusto le cose che ho ritenuto più interessanti o che comunque mi hanno colpito Ma vi aspetto nei commenti per sapere che voto date all'evento e se ci sono cose che vi hanno colpito particolarmente Partiamo con Prince of Persia Direi bene ma non benissimo Fa piacere sapere che Ubisoft abbia deciso di mettere una pezza a tutti i problemi usciti fuori con lo sviluppo del remake delle sabbie del tempo Con un titolo che ripesca l'estetica di quell'iconico action dell'epoca PS2 E che lo inserisce in un contesto 2.5D che strizza l'occhio alle origini della serie Questo The Lost Crown dovrebbe essere un metroidvania quindi per me è un'ottima notizia Non mi convincono però l'eccessivo focus sul combattimento e l'art style che lo fa sembrare un gioco a bassissimo budget Quasi una produzione per mobile Spero di ricredermi con i prossimi trailer L'uscita è prevista per il 18 gennaio su tutti i sistemi Il trailer di gameplay di Mortal Kombat 1 ha mostrato esattamente quello che era lecita aspettarsi Un primo sguardo al roster La spiegazione della meccanica dei cameo fighters E un tripudio di violenza con le nuove fatality Non sono un grande amante della serie ma quello che si è visto è estremamente incoraggiante E credo che i fan di vecchia data siano rimasti soddisfatti Sono un po' interdetto per quanto riguarda Sonic Superstars L'idea di un nuovo Sonic in due dimensioni che va a catturare il feeling della trilogia originale E la modernizza con un'estetica decisamente più attuale Sulla carta sembra un'operazione vincente Anche qui però c'è qualcosa che non mi convince nell'art style Il motore grafico in 2.5D mi è sembrato scialbo e molto meno ispirato rispetto alla pixel art di un Sonic Mania Comunque le idee di gameplay sembrano esserci tutte E anche l'attenzione ai dettagli E non è un caso che come character designer di Superstars c'è Naoto Oshima Designer, autore del primo Sonic e anche Eggman L'uscita è prevista per l'autunno di quest'anno E speriamo che Sega non sbagli questo nuovo episodio Purtroppo di Alan Wake 2 avrei voluto vedere molto più gameplay Ma è stato veramente emozionante tornare a sentir parlare Sam Lake della sua nuova creatura Il gioco rispetto al primo capitolo uscito 13 anni fa vira nel territorio dei survival horror Ed è palese l'influenza che i remake della serie di Resident Evil hanno avuto su questa produzione Poi però non c'è niente da fare Per quanto le produzioni Remedy si rivelino dei titoli imperfetti Che ci sta che non piacciono a tutti Hanno uno stile inconfondibile Sono giochi che si prendono enormi rischi E provano a dire qualcosa di diverso da quello che si trova negli altri titoli a medio o grande budget Non vedo l'ora di scoprire come effettivamente si svilupperà questo concept Delle due linee narrative che si sviluppano in parallelo Ma che possono essere portate avanti a piacimento dal giocatore Ci sono stati poi molti momenti random come l'apparizione di Nicolas Cage sul palco Un momento di panico in cui sembrava che Jeff Keighley stesse per annunciare qualcosa a tema Final Fantasy Ma che in realtà stava solo facendo uno spot promozionale a una app di food delivery E anche il reveal della data di uscita di Spider-Man 2 Il segmento dedicato al nuovo titolo Insomniac è sembrato un po' campato in aria Mi ha ricordato l'hype smodato per il logo reveal di PS5 Cioè non fraintendetemi È un bene aver scoperto la data di uscita ovvero il 20 ottobre Ma a questo punto perché non svelarla direttamente al PlayStation Showcase Il fatto che Palward esista veramente per me è una cosa scioccante Sembra un gioco pensato come pesce d'aprile o come meme da postare su Twitter Eppure il progetto è vivo e vegeto e anche in dirittura d'arrivo Con un'uscita prevista per il prossimo gennaio Non voglio sbilanciarmi su questo titolo Però dai cerchiamo di essere obiettivi Il primo colpo d'occhio non è spacca mascella Però dai su È comunque meglio di... No? La chiusura bomba su Final Fantasy VII Rebirth Mi ha colto veramente di sorpresa Soprattutto perché non mi sarei mai aspettato Che Square decidesse di glissare totalmente Final Fantasy XVI Ormai in dirittura d'arrivo Un titolo di cui non abbiamo neanche avuto la demo tanto sperata Però porca miseria che emozione Questo trailer è confezionato ad arte Per colpire al cuore i super fan dell'originale Ma anche per stuzzicare la fantasia di tutti quelli Che si stanno domandando come Square deciderà di gestire l'open world post Midgar Il punto è che per quanto familiare sia tutto quello che viene mostrato Non ha neanche senso rapportarlo eccessivamente all'originale Visto che sappiamo che il Rebirth non è un remake Anche se era partito come tale Insomma una confusione assurda Comunque per me il trailer è promosso a pieni voti Anche se per ovvi motivi non potrà mai raggiungere l'impatto emotivo Del reveal del remake durante l'E3 2015 La data di uscita è prevista per gennaio del 2024 Ma il vero tocco di classe è l'aver scritto fieramente Che il gioco arriverà su due dischi Una decisione dal sapore nostalgico Che però ha anche un senso pratico Chissà se Square riuscirà a ripetere la magia Promessa anche col sedicesimo episodio Di mettere tutti i contenuti su disco Senza alcun bisogno di una day one patch Un imbello in bocca al lupo A chi opterà per la versione digitale da scaricare In conclusione per me si è trattato di un evento molto godibile Non eccellente Ma al di sopra della media delle presentazioni di Key Lay Che nonostante i vestiti orrendi E le continue interruzioni pubblicitarie Ormai confeziona delle serate dal buon ritmo E dai contenuti variegati Soprattutto si è trattato di uno showcase Libero dai quintali di trailer in CGI A cui ormai siamo tristemente abituati Tanto spazio al gameplay E molte date di uscita Fossero tutte così le presentazioni Voi siete rimasti soddisfatti di questa Summer Game Fest E chiudiamo andando a tutto rumor Perché si torna a parlare di Metroid Prime 4 E Nintendo Direct Perché improvvisamente Lo scenario estivo di Nintendo Sembra aver preso una piega completamente inaspettata Io adesso vi riporto 4 rumor Apparentemente scollegati tra di loro E cercheremo di contestualizzarli Mi raccomando Non è che vi sto dicendo che la settimana prossima ci sarà un Direct Né che queste qua sono informazioni a 100% sicure Però chiudiamo la settimana speculando Secondo me potrebbe uscirne qualcosa di interessante La prima notizia è che per quanto riguarda Metroid Prime 4 Qualcosa si muove Nintendo ha infatti aggiornato il My Nintendo Store Con una pagina dedicata al titolo Tirata su in un momento a dir poco sospetto Si tratta infatti di una pagina Dove non sono disponibili info riguardanti il gioco Ma dove è possibile pre-registrare il proprio interesse Per essere notificati via email quando saranno disponibili informazioni ufficiali Sul sito italiano ora la pagina risulta vuota Facendo ipotizzare un errore da parte della grande N Ma ad esempio sulla controparte inglese del My Nintendo Store La pagina è ancora raggiungibile e ci si può tranquillamente registrare Possiamo quindi pensare che ci sia un annuncio dietro l'angolo per quanto riguarda Prime 4? Casualmente poche ore prima Jeff Grabb durante uno dei suoi ultimi podcast Ha iniziato a parlare di un possibile Direct di Luglio Gli sarebbero infatti arrivate delle voci confuse Su un probabile evento Nintendo ancora non certo Di cui però non saprebbe definire ancora l'identità Potrebbe trattarsi di un Direct a tutti gli effetti Così come di un mini partner showcase O di un qualcosa dedicato interamente a Pikmin 4 Però c'è da dire che storicamente Grabb Quando ha parlato di Nintendo Direct Ha sempre dato informazioni affidabili Nel mentre un leaker brasiliano Che a inizio anno aveva già parlato di un nuovo Sonic in 2D Rumor poi confermato con Superstars Suggerisce l'uscita di un nuovo Mario e Sonic ai giochi olimpici Che verrà presentato da Nintendo stessa in un suo evento imminente Questo forse è il più debole dei tasselli Anche perché al momento è difficile verificare l'attendibilità del giornalista Ma è comunque un'indiscrezione da tenere in considerazione E per concludere Nintendo Giappone ha aggiornato la pagina dedicata a Nintendo Direct Pur non riportando alcuna novità consultabile Update del genere di solito preannunciano un qualche tipo di aggiornamento Che arriva di solito nel breve periodo Che potrebbe essere qualche giorno, una settimana o magari un mese Insomma io continuo a pensare che non ci sia spazio a giugno Per un evento Nintendo a tutto tondo di quelli belli corposi Ma rimango aperta la possibilità di un evento minore a luglio Fatto sta che ci stiamo avvicinando al ritorno di Metroid Prime 4 Anche se non penso che l'uscita sia dietro l'angolo Però non dimentichiamoci che ci sono ancora Prime 2 e 3 da pubblicare Per rendere l'attesa più scorrevole Tutti gli indizi sembrano puntare a un qualcosa di imminente Secondo voi Poracci ci sarà o no questo Direct Estivo? Sarà a giugno o a luglio? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo Soprattutto vi ringrazio per essere stati in tantissimi ieri in live E mi raccomando, replichiamo questa domenica a partire dalle 18.30 Per l'Xbox Showcase, non mancate perché sarà uno degli appuntamenti più importanti dell'anno Vi aspetto nei commenti per sapere che ne pensate di tutte le notizie del giorno E noi ci vediamo presto Mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic in 2D tranquilli Ma soprattutto nerdate duro Io sono il Poro Superstars, Michele Fest Ciao Ehi 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 fermo, se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa Un sinonimo di inaspettato? È stato veramente inaspettato 10 lauree Con du 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 du